Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans Prima di iniziare volevo andare subito a salutare il mio clan ragazzi Il mio clan e a farvi vedere anche un paio di attacchi volanti della war Che come sempre vinciamo ragazzi perché ne vinciamo davvero tante di war L'attacco che hanno fatto a me ragazzi, devastante, guardate che attacco Attacco assurdo, allora guardate qui dove andate a posizionare con il soffione da questa parte Buttato le mongolfiere per tirare giù il mio per tirare via le mie difese Che ho messo esattamente al centro e non sono facili da stanare E poi butta tutto contro il soffione e mi fa una percentuale ridicola con tutte queste mongolfiere inutili Perfetto, ci sta tutto questo mega fail che hanno fatto contro di me Mentre sopra praticamente, quelli due sopra ancora non li hanno fatti Vi faccio capire poi che genere di nemico sono andato ad attaccare Io ragazzi lo faccio vedere giusto al volo il mio attacco Che a modo mio diciamo guardate metto il requino Però quasi quasi queste due valchirie me lo stavano per fottere Per poco eh, per poco vabbè E questo era lo scarafaggio che ho attaccato in questa war Ben altra storia direi, proprio ben altra storia È stato il primo attacco per esempio Il primo attacco che mi diverta sempre a guardare i primi Perché per me è roba che onestamente non so neanche che cosa Cioè a livelli estremi di cose Però rimango sbalordito della potenza di questa cosa qui Di questo eroe Con gli angioletti E la cura davvero immortale Ovviamente metterò per 4 Vedere un po' il livello di devastazione a cui arriva in questo due fiamme I bocciatori che non vedo l'ora di sbloccare Sono fortissimi Ho appena sbloccato il domatore di cinghiali Quindi vabbè Ci arriverò sicuramente Rimango sempre a guardarli un po' questi attacchi Super potenti Cioè che cazzo di cannone assurdo Una roba incredibile Tanto il maghetto si fa di là Comunque l'attacco ormai si è estinto Si vede quando l'attacco inizia a perdere potenza Proprio come un meteorite quando entra nell'atmosfera E come questo proprio è il caso Ma in questo video volevo andare a appapparmi Come avrete visto sicuramente dal titolo e dalla copertina I 400 goblin che ho Perché mi servono una valanga di risorse Tra 19 ore mi si completa Un'altra strega in questo caso costruttrice Quindi volevo andarmi a appappare Questi 400 in raid succulenti Usando il re al momento giusto E mi pare che con un villaggio così ridicolo Il re per sfondare qui sia proprio la scelta più adatta Oltretutto qui sta anche costruendo Una torre Qui vale davvero la pena Perché sono meno di 20k Più un'altra Cioè in totale non arrivo a 100.000 E qui ci sono già 161.000 Forse non servirebbero Non serviranno neanche tutti Quindi proviamo a fare Così mettiamo lui Poi qui metto Faccio così Così e ci metto tutti i goblin Tutti i goblin Ok fatemi spostare Ok che se iniziano a andare un po' più Dai spostatevi tutti Vediamo questo centinaio di goblin Che cosa riesce a fare Spacca anche al volo il centro del villaggio 100 goblin esatti Vediamo un po' Vediamo un po' Oh peccato Gran peccato Gran peccato Si è bloccato a 42 Allora facciamo così Quindi vediamo un po' così Quanto ci siamo riusciti a rubare Comunque Non poco Quindi questi 37 Adesso li metto così In ordine un po' sparpagliato Per non farli arrivare Proprio tutti insieme Non farli arrivare Proprio tutti insieme Vediamo un po' Se riusciamo a prendere Altro Dai va bene Con meno di 20k E due magie Ci siamo beccati Comunque un bel po' Va benissimo Va benito 126 Ci sta tutto Sono riusciti a prendere Anche la stellina Per non failare l'attacco E quindi 200 goblin Ce li siamo già sparati In un solo turno E possiamo Allora Andarci a fare il secondo attacco Con gli altri 200 goblin E rifare le mie due magie Esercito Ovviamente attacchi Soltanto per le risorse Andiamo un po' Direi che questo qui ragazzi Ci sta tutto Potrebbe avere molta roba Nei depositi Negli estrattori fuori Quindi Se per esempio Faccio così Ah Sono già partite le mongolfiere Sono già partite le mongolfiere Allora Andiamo di qua Facciamo così Così Mettiamo un po' Anche qua Qui Anche Allora Abbiamo già derubato Un bel po' Di risorse Abbiamo già derubato Un bel po' Di risorse Ottimo Dai Altre due coltellatine Facciamo così Perché anche l'oro Mi serve Prendetevi quest'oro Va bene Qui Che cosa contiene Che cosa contiene Un bel nulla Un bene amato E quindi Va bene Così Ci teniamo questi 100 E ci siamo Deve impolpare 60-58 Vabbè Sempre comunque Meno di quello che ho speso Vado sempre a quello Quando adesso Sto inizando a arredare così Ok Mancano ancora Un centinaio Un centinaio Quindi Allora voglio concludere Con questo rischioso Rischioso Perché Devo usare Questo Devo usare I rinforzi Che ci stanno Le valchirie Facciamo Così 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 E poi Tantissimi Perfetto Tantissimi Vai Aspettiamo Un altro po' Li mandiamo Sfusi Facciamo così Dai Andate a vincere Si sono anche rubati Il centro del villaggio Ragazzi Questo è stato Un mega raid Facciamo così Dai Ci butto Pure questo Ok Grandi Ci siamo Praticamente Tesolati Tutto Perfetto Ringrazio ovviamente Il clan Per questi rinforzi Valkyria Ragazzi Cioè Proprio Si è Tancata Il mondo Rimasto Purtroppo 5 Delisir Nero Mi dispiace Siamo riusciti a beccare Anche 3 per poco Ma un super Mega Raid Usando una manciata Di risorse E rinforzi Quindi Veramente top Veramente top Questo attacco Possiamo richiedere Qualsiasi cosa Metto da destrare Bei 10 draghi Più Le magie Così da risalire Anche un po' E beccarmi Poi L'ultima stellina Direi di andare Nel villaggio secondario Per questo video E Ci manca Ancora Un giorno Qui E quindi Possiamo Andare A potenziare E a farci Gli attacchi Il più velocemente Possibile Allora Vediamo Qui Molto Sta Zappando Il Lo spara razzi Qui Metto Il gigante A tancarsi Ste due torri Poi Un giro Di questi Così E poi Qua Gli sgarri Mamma mia Che massacro Però sono riuscito A tirare giù Un bel Un bel po' Di cose Di qua Vediamo Un po' Vediamo Un po' Questi sgarri Quanto riescono A mangiare Siamo al 53 Ah ma di là Non ci dovete andare Di là Non ci dovete andare Dovete continuare A marciare Di qua Bruttissima La bomba Aerea Aerea Dove cazzo Dove cazzo Mettiamo 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 Tutti Loro Qua Facciamo Così Ok E' fuori Da range Dovremmo Prenderci Anche Il centro Qui non si è riuscito A prendere Questo Meno magico 71% Due stelle Non è malissimo Infatti abbiamo vinto Subito Successivo Attacco Allora 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 Mi sa che conviene 15 di questi E facciamo anche prima Quindi Facciamo così Vediamo un po' Che cosa riescono A combinare Solo loro Dai Picchiate Questa roba Uh Twister La situation Vediamo se l'ultimo Riesce a sturarsi Questo Dai Ultima Marta Brutta Storia Brutta Storia Ci sprecherò Uno sgherro Allora Proviamo A sprecare Uno sgherro Tipo da di qua Così tiriamo giù Questo E poi Quest'altro Un altro Per forza Di cose Qua E poi Entriamo Da qui Così Vediamo un po' Facciamo un altro Facciamo così Però Abbastanza inutile Avrei dovuto Aspettare Ho sbagliato Avrei dovuto Aspettare Che il gigante Qui sfondasse Mentre adesso Mi hanno fatto fuori Tutti gli sgherri My bad My bad Vediamo Se da qui sotto Si può ricavare qualcosa Ma posso Non posso fare altro Che usare Questi tre sgherri Sperando che appena Viene un po' Più avanti Recuperiamo Qualcosì Anche perché siamo Al 65% Non è andato Proprio malissimo Facciamo così Facciamo così Gli da una mano Gli da una mano Quello sgherro Va bene Ci dovremmo riuscire Ce l'abbiamo fatta A tirare giù Anche il centro Tre martellate Peccato 68% Questo secondo attacco L'abbiamo perso Vai Che abbiamo soltanto Fino a esaurimento Di quel timer Qui Allora Abbiamo qua Il centro del villaggio E ci arrivo Con prepotenza Con Gli sgherri Con questi Poi Fare così Allora Allora Dove mira Ho sbagliato Però vabbè Adesso lo uccidono E torna grande No Ha preso di nuovo E tiragli Almeno due colpi Allora Adesso Uno Due Tre Nove Qua Un po' di qua Un altro qua E tutti gli sgherri Qua Vediamo un po' Quanto riusciamo A rubarci Se continuano a colpire Questo maledettissimo Centro del villaggio Magari Magari Vi ringrazio Maledettissimi sgherri Dai Ok 65 65 68 71 Va bene Conclude sicuramente Nulla Dai Altri due colpi Non ce la fa sicuro Ok Vediamo un po' Se abbiamo avuto La meglio Sì Perfetto 71 a 49 Cerca Ottimo Ce l'ho fatta In così pochi minuti Vediamo un po' Se riusciamo A beccarci Anche questo 15 Vado Tutti i sgherri E 15 di questi Questo qui Attancarsi almeno Questa torre Poi Poi Facciamo Così Mettiamo questo qua Ok Poi mettiamo Tutti gli sgherri Qua Mettiamo uno di qua Un po' Devono riuscire Ad arrivare Al centro Del villaggio Assolutamente Quelli intorno Hanno fatto Un ottimo lavoro Ok Ok Li facciamo Così Metto uno per volta Li faccio attaccare Magari da lontano Così non vengono tutti uccisi Dall'esplosione Non so se ce la faccio Sinceramente Con soltanto Cinque sgherri Cerco di metterlo Nella linea Più lontana Da entrambi Ma Molto Molto Difficile Vediamo un po' Vediamo un pochettino Se Cinque sgherri Quanti colpi tira Uno solo Quindi alla fine Tre colpi Va a finire Però Va a finire Non prende quello rosso Quindi se facciamo così Facciamo così Ce la facciamo Perché insieme Attaccano No Ultimo Vai Top Top Sessantacinque Con due Speriamo di Di essercela cavata Anche perché questo era sicuramente L'ultimo attacco Sette minuti Sono scaduti Attenzione No Mi stavo per rubare Pure il cannoncino Lì Mi stavo per fare anche un cannone Gratis E invece 81 Manca solo uno Però Non è resuscitato sicuramente Il La macchina infernale Lì Curiamo la macchina infernale Con 5 gemme Cerchiamo Centro del villaggio Sta qua Così che colpiscono Eri qui 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 Quindi questa parte Molto vulnerabile Converrebbe prendere Questo E piazzarlo qua Vediamo un po' Che cosa succede Dovrebbero arrivare Esatto Così Vabbè Ho sbagliato Forse perché adesso Gli sgarri hanno tolto Il potere Volevo dargli una mano A beccare Vabbè Vabbè Stanno facendo il loro lavoro Stanno facendo il loro lavoro Ora Qua La situazione È questa Lo sgarro Sta continuando Metto Un altro sgarro Qui Un altro sgarro Qui Uno qui Poi Questo qua Lui qui E Vediamo un po' Che percentuale Ci riusciamo a beccare Attenzione Questo ha quasi fatto fuori Per poco Per poco Solo 45 Non sta andando Per nulla bene Un attacco Andato veramente Di merda Ci vorrà un miracolo Per fare in modo Che Una stellina Proprio rubata All'ultimo Uno schifo di attacco Però abbiamo vinto Lo schifo di attacco Cioè lui ha fatto Solo 17% Adesso io voglio vedere Che cazzo ha combinato Per fare Ha schiantellato Tutto qui Dove ci sono le bombe Si No Neanche tutto insieme Perché me l'ha fatta scoppiare tutto Solo con Però il mortaio Se lo sta a prendere Proprio sui denti Mamma mia Che brutto attacco Che in confronto Quello mio È un'opera d'arte E poi che cazzo ha fatto Ha sceso tutti Vediamo Vediamo L'idea c'era L'idea c'era L'idea c'era Ma praticamente Non ha fatto manco Niente Proprio il 17% Una tristezza totale Ma sono felice per me Che mi sono beccato La vittoria E concluso Tutte e tre Le stelline Perfetto Quindi direi Che per questo video È tutto Ragazzi Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Un commento Fatemi sapere che ne pensate Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video Chau 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 Chau